Nella mattinata di ieri, due soggetti pregiudicati residenti nel napoletano tra Melito di Napoli e Secondigliano sono stati tratti in arresto dai militari della stazione di Centola Palinuro a conclusione di un'articolata attività di indagine per furto aggravato con strappo in concorso. Il fatto risale allo scorso febbraio. I due uomini, con la scusa di vendere immagini raffiguranti il Papa, si sono introdotti a casa di un'anziana donna. Una volta individuato il nascondiglio del denaro, i due hanno strappato di mano il bottino di circa 3.000 euro e si sono dati alla fuga. Grazie a una minuziosa attività di ricerca e indiziaria, avvalendosi di telecamere a circuito chiuso e dichiarazioni testimoniali, i carabinieri della stazione di Palinuro sono infine riusciti ad identificare i due ladri. L'attività svolta ha trovato l'approvazione dell'autorità giudiziaria di Vallo della Lucania, portando così alle ordinanze di restrizione in carcere. I due uomini di 51 e 21 anni, già con diversi precedenti specifici, sono stati ristretti presso la struttura carceraria di Napoli-Secondigliano.